Avvocato Venditi, secondo lei c'è spazio per l'intelligenza artificiale nelle direzioni affari legali? Sì, diciamo che è possibile progressivamente prevedere aree di sviluppo di robotizzazione, di informatizzazione. È naturale che ci muoviamo sulle attività rutinarie di ricerca, di data mining e quant'altro. È un processo in qualche modo ineliminabile, è un processo che selettivamente coprirà alcune aree, il know-how di base sarà sempre quello umano però. Grazie.